Roma, 16 novembre 2017, potrebbe esserci un altro uomo dietro la rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Il condizionale è più che d'obbligo visto che al momento si tratta di puro gossip. Secondo il settimanale che l'ex Miss Italia frequenterebbe il cestista Giuseppe Poeta, giocatore dell'Auxilium Torino e della Nazionale Italiana di Basket. Nuovo e caro amico, lo definirebbe chi stando ai siti rosa. Che sia questo il vero motivo dell'addio fra la Chiabotto e l'attore napoletano. La storia con Poeta, ammesso che sia confermata, potrebbe essere arrivata dopo.Fatto sta che la separazione con Fulco, dopo dodici anni di relazione, è ancora freschissima. Lei mi ha fatto male, raccontava solo due settimane fa il 47enne in un'intervista a Novella 2000, mentre dall'altra parte tutto tace. Un anno fa la Chiabotto aveva spiegato di non sentirsi pronta per matrimonio e figli, anche se Fabio è l'uomo giusto. Cosa è cambiato in questi mesi? Senz'altro molte cose, che hanno ferito il cuore di Fabio, recentemente fuggito in Cina per stare un po' con se stesso. Giuseppe Poeta ha 32 anni, un in più di Cristina. Nato e cresciuto a Battipaglia, sfonda nel mondo del basket, ricevendo nel 2008 il premio come miglior giocatore italiano. Un anno prima aveva esordito nella Nazionale. Dalla Campania, all'Abruzzo approda alla Virtus Bologna, poi in Spagna, nel Saskia Basconia. Quindi viene assoldato nell'Aquila di Trento e infine arriva a Torino. Un metro e novanta di statura e senz'altro all'altezza di Cristina Chiabotto, che tocca 1,80.